Sarà effettuata nella giornata di mercoledì 9 dicembre l'autopsia sul corpo del 71enne ritrovato senza vita nella sua auto nella serata di ieri presso la colina San Marco nei pressi dell'ex hotel Florida ad Agropoli. L'uomo, secondo alcune testimonianze, sembra che sia stato visto l'ultima volta nella sua macchina circolare su lungomare San Marco in direzione Salerno. Ieri mattina è uscito dalla sua abitazione e non ha fatto più ritorno. I familiari hanno provato a cercarlo ed hanno alertato anche le forze dell'ordine denunciando nella scomparsa, ma poi nella serata di ieri la triste notizia. L'auto è stata ritrovata in una strada sterrata ed isolata. Ci sono accertamenti in corso da parte dei militari della locale caserma dei Carabinieri, sul posto i sanitari dell'associazione Croce Gialla di Eboli. La Salma si trova presso l'obitorio dell'ospedale civile di Agropoli. Si attende ora il referto dell'autopsia che sarà fatto mercoledì 9 dicembre e che potrà sciogliere ogni dubbio sulle cause del decesso. Grazie a tutti.